A 50.000 like, la mia ragazza reagirà alla mia gara di rimorchio Bello ragazzi, siamo i Pirlas Dopo 5 mesi siamo finalmente tornati con le gare di rimorchio Perché a causa di questo covid sono un po' limitati a casa E adesso siamo tornati, più che mai Presentiamo ai partecipanti Bianco, lo chiamavano Mozzarellina Ha un costumino imbarazzante all'ananas, solo e unico Pierino Senti, far una gara di rimorchio sapendo che la tua ragazza non lo sa che lo stai per fare Mi sento... Single Biondo, sembra che abbia dei noodles sulla testa Biondo platino Marocchino Marocchino Isma Berdusi Terzo partecipante Tunisino, l'avete già visto sicuramente qua in un altro video Olaos Sarà una solita gara di rimorchio, vero? Si arriverà a 5 e chi perde deve fare una terribile penitenza Verrà gettato in acqua dal vincitore I due che perdono, quindi tutti e due Solo che l'ultimo verrà proprio anche sporcato di sabbia A causa di tutto quello che è successo con i contagi, col covid Non ci saranno più i baci sulla guancia, ok? Quindi le ragazze dovranno direttamente indicare il vincitore Oppure dare il loro numero, se vorranno E Olaos non le baciarà tutte più in bocca E ragazzi, iscrivetevi al canale, mi raccomando Perché siamo quasi 700.000 iscritti Se vi iscrivete Pierino toglierà per sempre questo costume imbarazzante E rimarrò nudo Dai 700.000 iscritti cambieremo logo E il logo sarà questo Ma ora non potete vederlo Iscrivetevi per vederlo Detto questo, io vedo già delle ragazze là Andiamo Samuel Io direi di andare Ok, iniziamo Ok Prima ragazze Bellissime tutte e quattro Questa è la prima scena Ricordiamo che si arriva a quattro No, a cinque Scusate ragazzi E ci sono questi bellissimi ragazzi Partiamo chiedendo a loro Chi è il più vestito meglio Chi è il più vestito meglio Il secondo Sì, il secondo Sì Che stifo Chiedi chi è svestito meglio Questo costume è antisesso però Che antisesso Piacere, sono Pierino Mi avete già visto nei video voi Ok, ok Mi avete già visto Avete già visto la mia bellezza Che non c'è Infatti io non sono bello Però punto sulla simpatia Vi dico una barzelletta Qual è il colmo per Isma? Toccare il fondo in piscina Perché è basso Basso Votate me Sono un ragazzo di poche parole Poche parole Pochi centimetri Ok Non sei tu a dirlo Passo la parola Al partner qua Allora Non avere paura Ciao ragazze Piacere Isma Non ti mangiano Pierino Per favore Ho 19 anni Mio padre è brasiliano Mio mare è portoghese E io sono marocchino No sto scherzando Pierino Mi sembra assurdo poterlo scegliere Quindi per favore No Io questa la uso per lavare i piatti Cosa ne pensate della presentazione? Che è stato secondo voi il migliore? Lui Vediamo qua 3 a 0 E vediamo l'ultimo A lui Quello nel 4 a 0 Ok Non possiamo fare così Cioè parte già 4 a 0 Mio male che non ci sono io Perché se no Io l'ho già perso Mi dispiace Arriviamo a 100.000 like E participerò anch'io Me l'aspettavo Solo le 12 anni ti possono scegliere Andiamo dai ragazzi più grandi Ma tu rimorchi i tigri che stai registrando in questo momento Adesso andremo dai ragazzi più grandi E vedremo se c'erano Krolos Ok ragazzi Adesso siamo qua con altre tre benissime ragazze E adesso è il turno di vedere chi se le giudicherà Parte Isma? Sono io Dai partita Isma Ciao ragazze Mi chiamo Isma Mi piace i miei capelli Sincere Mi c'è sì ma biondi no Ho 19 anni Mio padre è brasiliano Mio madre è portoghese No sto scherzando Ma quando mai? Ma quando mai? Basta La mia presentazione è questa Star sedute era l'unico modo per essere più Non basso di lui Ma io non posso parlare con uno che è a costume con l'anas Buona Non ti guardo neanche più Sei brutissimo Ma io ti guardo Mi viene torcicollo a guardare giù Piacere sono Holos C'ho 18 anni Si vede? No Te siete belle ragazze Scegliete chi preferite Basta Ok Mi è piaciuta come presentazione? Molto convincente Ok ok Ho poche parole Va bene Pierino Pierino è il tuo turno Ah sono Pierino Ho costume ad ananas Perché sono una persona divertente No io mi chiamo Pierfrancesco Pierino è il mio nome d'arte Assolutamente Sono un artista Sono un artista Non come quell'idiota Che ti ha disegnato Sti capelli di me Sono in spiaggia Ci vengo a petto nudo Non ci vengo vestito Paura di mostrare Il proprio fisico A tre belle ragazze E non c'è E levati Mi caldo solo a guardarti Con quella polo Tu lo stai sfoggiando Noi no Perché magari non vogliamo farci fighi Sei tu che stai facendo il figo Sono timido Preferite un uomo timido? Un uomo estroverso Che mi porta a ballare Che scherza con voi Guarda stanno già ridendo Imparate A volte è bello scoprire le cose Esatto Il tesoro più bello è quello nascosto Ricordate Che tesoro Avete qualcosa voi? Va bene ragazzi Passiamo ai fatti Ragazzi Vuoi la scelta? Io scelgo lui Isma Primo punto per Isma Incredibile Ce l'hai fatto a fare un punto? Io scelgo Pierino Pierino Anche lui si aggiudica Su primo punto Io ho Isma Isma 2 4 1 Incredibile Pier cosa è successo? Cosa è successo? Non lo so È il costume Il costume mi dispiace Ma è la parte più bella Una pizza lana Ok ragazzi Passiamo alla prossima ragazze Ok Terza scena Non diciamo il parziale Meglio di no Se no vengono influenzate Abbiamo 5 ragazze Molto molto belle Olos vai Piacere Olos Ho 18 anni Non so se si vede però No Boh a me sembra più grande Sono un ragazzo di poche parole Tendo sempre a dimostrare più che parlare Siete delle belle ragazze Tutte quante Niente Posso così Vai Pierino Allora mi chiamo Pierino In realtà Pier Francesco Il nome d'arte è Pierino Come vedete sono tutto rosso Perché mi sono emozionato un sacco a vedervi La faccia non basa Ho tirato tutto rosso Non sono il più bello dei tre Lo ammetto Ma punto tanto sulla simpatia Possiamo dire una freddura Una barzelletta La valetta è una barzelletta Sì vai Vai Cosa fa uno sputo nelle scale Saliva Saliva Ciao ragazze mi chiamo Isma E ho 19 anni Non vi racconto barzellette Perché sono una barzelletta vivente Può raccontare le barzellette Sei già tu una barzelletta Come sono state le presentazioni Un po' così così diciamo Secondo te come sono state Io voto lui Ah già così Sì Aspettiamo ok Io scelgo lui Olos Sì molto semplice Concisa Posso dire buffonate È stato più serio Io sempre lui Pierino Sì sempre Pierino Sì sì Sei a tre punti giusto? Sì sono a tre punti Anche io Pierino Quattro punti Mamma mia E qui il tuo voto Può essere fondamentale Perché C'è in ballo un pareggio Vai vediamo Anche io Pierino Per la battuta Si merita Pierino E Pierino Incredibilmente pareggia Olos Pensavo di aver fatto schifo No veramente grazie Olos 5 Isma 2 E Pierino 5 Quindi ci sarà lo spareggio finale Adesso Ci sarà lo spareggio finale Tra me e Os Bella Olos È caratteri montato Pierino Buono Sei sicuro di te Colpo di scena Ci sarà lo spareggio Tra me e Os Fermiamo le ultime ragazze E decideranno Chi sarà il vincitore Di questo video E chi perderà Verrà buttato Nell'acqua Quindi andiamo Let's go Andiamo Andiamo Ok ragazzi Siamo giunti La finalisma Tra Pierino E Isma Olos Era una battuta Dai Parte Pierino Va bene Mi chiamo Pierino Sì ma il mio nome d'arte In realtà mi chiamo Pierfrancesco Non va dato al mio costume ad ananas Perché a me piace la pizza all'ananas Cioè io lo dico Non me ne vergogno A voi piace No Sei matto Sei matto Sei italiano o no Però vi piace Chi mangia la pizza all'ananas Ancora a te Ancora a te Malissimo Uno che non ha paura Di differenziarsi dalla massa E di seguire le sue passioni Anche se vado contro A tutta Italia Sì ma ragazzi Ci sono passioni e passioni Vogliamo dire questo Non ho mai rimorchiato Con la pizza all'ananas Ma c'è sempre una prima volta Quindi siate voi La prima volta Ok Piacere Sono Olos Siete delle bellissime ragazze Faccio più che i fatti Non parlo tantissimo Meno non mangi la pizza all'ananas Sì non mangi Mi fa schifo Mangi la pizza all'ananas No mi fa schifissimo Meno male Bene È giunto il momento Della decisione finale E quindi Che avete scelto Ha una vita davanti Lui deve Beh Lui è vecchio Invenzione Quindi tutti e due Olos Mi portavo in pizzeria E potevi dirlo prima Allora A mangiare la pizza all'ananas Ragazzi Una pizza all'ananas Non si rimocchia Vincitore vieni qua Vieni qua Allora Cosa vuoi dire Cosa vuoi dire Al perdente Le foto dopo ragazzi Dovete essere vincenti In la vita Se dovete essere vincenti Siete me Quante sto Sta sparando Questo Troppe Troppe Non hai detto niente Sono ragazzi in poche parole Sono ragazzi in poche parole E io faccio Com'è con i fatti Sono te Questo fa capire Che siete dei chiacchieroni Siete dei chiacchieroni Parlate tanto Giunto il momento Della penitenza Al primo posto Abbiamo Oloos L'unico che si salva Dalla penitenza E adesso Secondo posto Pierino No ho perso No lascia di stare Aia E' un po' a basso qua Vai Ha fatto una rovesciata Adesso voglio Isma insabbiato Però E al terzo posto Abbiamo Isma Berdusi Che farà la penitenza Terribile Se insabbiatelo Vai E' schifo Grazie Mamma mia Due Uno Vai Volalo Allee Se Va bene ragazzi Prima di chiudere tutto Guardate i gabri Guardate i gabri Come è venuto in acqua Si è scordato di togliere le scarpe Ragazzi Questa è la prima gara di Morchis Piazza Dal prossimo video Vado a vedere 700.000 iscritti Per cui se non l'hai fatto Iscriviti al canale Seguici su Instagram ChiocciolaPirlasv Segui i nostri profili social Che abbiamo messo nel video Ragazzi E niente Detto questo Ci vediamo in un prossimo video Ciao